questa è la mia signora che fotografate ma non glielo potevi dire tu e che glielo devo dire che non sei una statua che è mica la donna nuda questa ma lei non lo comprava i 18 milioni 18 milioni beh ma insomma non è troppo santi numi ma che pena mi fa stozzati ingrattiti come olive a scola spredini di carne in fila sulle autostrade saldare il casello tanto per ringraziare pensarsi arrivare infatti dopo un lungo weekend chiedo venia trovo un po' esagerato pagare tre volte un litro di benzina sentirsi ridire con sorrisi di rame che sono costretti dal mercato dei cambi andate a cagare voi le vostre musiche credo di notare una leggera pressione del senso speciale e la versione scostante è